Purtroppo la notizia è arrivata poco fa, è arrivata nel primo pomeriggio e niente, subito Meloni e il governo sono attivati nell'esprimere condoglianze alle vittime, ai parenti, agli amici, le condoglianze scusatemi alla famiglia e agli amici delle vittime, però non mi piace questa polemica vana fino a se stessa, cioè cosa dobbiamo fare i soccorritori? Si dovevano rischiare altre vite per provare a vedere se c'era la possibilità di salvarne altre, cioè ormai era giorni, 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 giorni e giorni che non si trovava, non si aveva idea di dove fossero i loro corpi, solamente ora viste le buone condizioni meteorologiche sono stati provviste appunto di poter continuare a cercare, ma non si potevano, non si potevano assolutamente, non potevano rischiare assolutamente altre vite per la ricerca di appunto altre vite, di queste vite, sono stati ritrovati i corpi dei quattro alpinisti che hanno provato a scalare la vetta del Montebianco e sono stati colpiti a sorpresa, non solo fisicamente, ma precedentemente dalle condizioni avverse, le previsioni dicevano che era tutto bene, era tutto buono, purtroppo non è stato così, purtroppo sono stati ritrovati quattro corpi, sono stati ritrovati quattro cadaveri e non c'è più nulla da fare, mi dispiace tantissimo, solo questo però purtroppo è l'ennesimo caso di gente che ama l'avventura, che ama scalare la vetta delle montagne nel vero senso della parola, non tipo la boccia, nel senso della società o dell'alta società, dell'alta classe politica, in questo caso dell'alta montagna naturalisticamente parlando, è solo l'ultimo caso di una lunghissima serie nel nostro paese della nostra quantità di montagne, che quanto possono essere belle ma quanto possono essere anche pericolose, quello che voglio dire io è che anche io vado a scala montagne, anche a me piace fare queste scampagnate, però so perfettamente che la montagna può essere rischiosa e che il tempo può cambiare da un momento all'altro, questa è una cosa risaputa dall'alba dei tempi, comunque chiacchiere servono a zero, tante condoglianze, tantissime condoglianze.